Nella primavera del 1952 accade qualcosa di eccezionale. Il numero di avvistamenti UFO sale alle stelle. Per anni il governo statunitense ha detto ai suoi cittadini che gli UFO non esistono, ma in segreto i comandanti dell'aeronautica militare sono divisi. Alcuni membri credono si tratti solo di comuni fenomeni atmosferici. Altri invece pensano che riceviamo visite da una civiltà aliena in possesso di una tecnologia avanzata. Seguiteci mentre indaghiamo sugli avvistamenti del 1952 che furono talmente frequenti da costringere il governo degli Stati Uniti ad affrontare la questione pubblicamente. Un progetto su scala globale ha avuto inizio. I dossier segreti che documentano tutti gli avvistamenti di UFO degli ultimi decenni sono ora di dominio pubblico. Stiamo per scoprire la verità dietro a questi documenti riservati. Quello che il governo voleva nasconderci. Dossier segreti sugli alieni che rivelano i più grandi segreti del pianeta. 29 luglio 1952. Il generale John Sanford, direttore dell'Air Force Intelligence, convoca la più grande conferenza stampa della Seconda Guerra Mondiale. La ragione? Sono qui per parlare dei cosiddetti dischi volanti. L'interesse dell'aeronautica militare a riguardo è dovuto al nostro senso del dovere. Abbiamo il compito di identificare ed analizzare al meglio delle nostre capacità qualsiasi cosa nell'atmosfera che possa rappresentare un pericolo per gli Stati Uniti. Tra la primavera e l'estate del 1952, negli Stati Uniti vengono denunciati tantissimi avvistamenti UFO, come mai prima nella storia. La popolazione lo sa e Sanford cerca di calmare le acque. Siamo stati in grado di dare una spiegazione plausibile alla maggioranza delle segnalazioni. E per quanto riguarda gli avvistamenti che né i radar né i testimoni oculari sono in grado di spiegare? Per comprendere cosa accade in quello che è forse l'anno più particolare della storia recente degli UFO, dobbiamo cominciare dall'inizio. Nei primi mesi del 1952 viene registrato meno di un avvistamento al giorno. Tra aprile e maggio gli avvistamenti salgono a tre al giorno. A giugno, il tasso di avvistamenti registrati raddoppia. Ed è solo l'inizio. Il fenomeno era di proporzioni maggiori di qualsiasi cosa i militari statunitensi avessero mai visto prima. Ciò porta l'attenzione sugli UFO ad un altro livello. Tra il 22 e il 29 luglio si raggiunge il picco di 27 avvistamenti UFO al giorno. L'aumento degli avvistamenti è considerevole. È normale chiedersi che cosa stava accadendo nel paese. L'aeronautica militare è seriamente preoccupata. Il suo compito è quello di pattugliare i cieli. Ma sta accadendo qualcosa che nessuno riesce a spiegarsi. Dossier segreto. L'avvistamento delle Hawaii. Marzo 1952. Il segretario alla marina Dan Kimball e l'amiraglio Redford sono a bordo di due diversi velivoli sopra Guam diretti verso le Hawaii. Durante il volo, Kimball e Redford guardano fuori dai finestrini e vedono un oggetto volante non identificato che non riescono a spiegarsi. Raccontarono di averlo visto sfrecciare nel cielo. Membro delle Forze Aeree e cofondatore del Comitato Nazionale per le Indagini sui Fenomeni Aerei, il Maggiore Donald Kyo racconta che Kimball disse I velivoli ci hanno girato intorno due volte e poi sono andati via verso est. Dietro di noi c'era un altro aereo della marina con a bordo l'ammiraglio Arthur Redford. Kimball continua. Il capopilota di Redford ci ha richiamati quasi subito. Gli UFO stavano volando attorno al loro aereo. Hanno calcolato che hanno coperto una distanza di circa 50 miglia in meno di due minuti. Gli UFO sono poi volati via, uscendo dalla loro visuale. Ma quando fa domande riguardo alle indagini, riceve una risposta inaspettata. Gli venne legato l'accesso ai verbali. Gli dissero che non era possibile rivelare al testimone oculare nessuna informazione riguardo alle indagini. Un giorno del mese successivo, il 29 aprile 1952, entrerà nella storia. Dossier segreto AFL-205 Con l'AFL-205, il comando dell'aeronautica militare dichiara che tutte le denunce di avvistamenti di UFO devono essere inoltrate immediatamente all'Aer Technical Intelligence Command, dove nascerà il Project Blue Book. Parlarono del bisogno urgente di utilizzare mezzi elettronici per registrare gli avvistamenti entro un giorno e dell'importanza di non parlare di queste cose con i media e con la popolazione. Quindi, dall'esterno, quello che si percepisce è il velo di segretezza che circonda gli avvistamenti UFO dei militari. L'AFL-205 autorizza il Project Blue Book ad indagare sugli avvistamenti UFO del personale delle forze aeree senza bisogno di passare per più livelli di comando. L'accesso diretto ai documenti è piuttosto inusuale ed è sintomo dell'urgenza della situazione. Stiamo per analizzare la più convincente prova visiva dell'esistenza degli UFO dei primi anni 50. Una ripresa ancora oggi al centro di controversie. Nella primavera del 1952 l'aeronautica militare degli Stati Uniti risponde all'aumento di avvistamenti UFO dando al Project Blue Book una libertà senza precedenti per indagare sul fenomeno. Lo scopo? Analizzare i verbali riguardanti gli avvistamenti UFO dei civili e del personale militare stabilire se gli UFO sono una minaccia per la nazione e identificarli. L'ufficiale delle forze aeree Edward Ruppelt distanza alla base di Wright-Patterson in Ohio è incaricato di guidare il Project Blue Book. Era questo l'uomo incaricato di indagare su tutti gli avvistamenti segnalati al governo dai militari. Nonostante accettasse di prendere in considerazione anche racconti da parte della popolazione, il punto centrale del Project Blue Book riguardava sostanzialmente gli avvistamenti dei piloti e le segnalazioni radar. Ma un caso del luglio del 1952 lo turba. Dossier segreto Il filmato di Tremonton 2 luglio 1952 Il maresciallo della marina Newhouse è in macchina nello Utah con sua moglie quando nota uno strano gruppo di oggetti in cielo. Ferma la macchina per poter osservare meglio e non riesce a credere ai suoi occhi. Un gruppo di 10 o 12 oggetti è in volo verso ovest. Hanno notato svariati oggetti in volo nel cielo diversi da ogni velivolo tradizionale che avessero mai visto. Newhouse descriverà poi gli oggetti come due dischi sovrapposti uno dritto e uno rovesciato. Corre a prendere la videocamera a 16 mm nel portabagagli dell'auto appena in tempo per girare questo incredibile filmato. Ogni tanto sembra di vedere una costellazione come se stessero comunicando ma la cosa interessante è la somiglianza con gli avvistamenti che si verificano ancora oggi nei cieli degli Stati Uniti che qualcuno riprende. Rappel racconterà poi di Newhouse nel suo libro del 1956 The Report of Unidentified Flying Objects in cui scrive quando lui e la sua famiglia videro gli UFO questi erano vicini alla macchina molto più vicini di quanto non lo fossero quando realizzò il filmato. Il video di Newhouse a Tremonton fu girato da un testimone che vide una vera e propria flotta di UFO nel cielo. Amo questi casi perché non è possibile creare un falso del genere da soli. Sono vecchi, non possono essere stati ritoccati con Photoshop o con qualche altro programma per ritoccare i video. E questo li rende veri. Quattro anni dopo il Project Blue Book analizza la ripresa e pubblica un rapporto. Volevano cercare di dimostrare che si trattava di un pallone aerostatico o una spiegazione possibile che non è mai stata provata quindi sui libri si parla ancora di un vero mistero. E cosa ancora più inspiegabile è molto simile a un famoso avvistamento di due anni prima. Dossier segreto Il filmato di Mariana Agosto 1950 Great Falls, Montana Mentre ispeziona uno stadio da baseball del posto con la sua segretaria Nick Mariana nota con la coda dell'occhio qualcosa che sfreccia via. Due luminosi oggetti argentati volano sopra Great Falls. Quest'uomo ha veramente filmato degli oggetti volanti. Prende la telecamera e gira questo filmato di 16 secondi. Il giorno seguente il Great Falls Tribune riporta la storia e nelle settimane seguenti Mariana divulga il filmato tramite diverse tv locali ma l'aeronautica militare afferma che i velivoli ripresi nel filmato di Mariana sono due dei loro. Quando il testimone ha riavuto il filmato dall'aeronautica militare degli Stati Uniti ha dichiarato che c'erano dei fotogrammi mancanti nel video come se fosse stato tagliato per un tentativo di insabbiamento. Mariana dichiara che i fotogrammi mostravano chiaramente dei dischi argentati. L'aeronautica militare nega le accuse ma molte persone di Great Falls che hanno visto il video originale sostengono le dichiarazioni di Mariana. Quindi dobbiamo chiederci perché hanno cercato di nascondere il tutto. Nel luglio del 1952 due anni dopo il filmato di Mariana il capitano Ruppel a capo del project Blue Book chiede di poter riesaminare le riprese. L'analisi originale che dichiara che gli oggetti nel cielo erano dei riflessi dei jet F-94 viene rigettata. Ruppel dichiara le luci sono troppo fisse per essere dei riflessi. Non siamo giunti a una conclusione sul filmato. Gli oggetti non sono ancora stati identificati. La controversia riguardo ai fotogrammi scomparsi non è mai stata risolta. Forse si trattava di una prova concreta di un velivolo alieno in cielo quindi hanno voluto cancellare le immagini che lo avrebbero provato. Oppure si trattava di una tecnologia top secret che i militari non volevano divulgare e si sono detti beh, qui non si vede bene. in questi fotogrammi invece sì. Allora tagliamoli. Tra poco gli UFO circondano il Campidoglio degli Stati Uniti e l'aeronautica militare non ha il potere di fermarli. Restate con noi e scoprirete i più sconvolgenti segreti dell'universo. Proseguiamo le nostre indagini. Nel luglio del 1952 gli avvistamenti UFO in Nord America aumentano drasticamente il che obbliga l'aeronautica militare a rendere le indagini sugli UFO una priorità ma niente può prepararli a quello che accadrà sopra lo spazio aereo più protetto del mondo quello sopra il Campidoglio. Dossier segreto il carosello di Washington Il 19 luglio 1952 un controllore di volo dell'aeroporto nazionale di Washington rileva diversi oggetti sul radar più avanti dirà che sono completamente diversi dai velivoli ordinari le prime pagine dei giornali il giorno dopo titoleranno sciame di dischi volanti sul Campidoglio il 26 luglio un volo della National Airlines denuncia la presenza di altri UFO la base delle forze aeree di Andrews li rileva sul radar i testimoni descrivono delle luci che viaggiano più veloci di una stella cadente il 29 luglio le forze aeree emanano l'ordine senza precedenti di abbattere i velivoli il Washington Post pubblicherà nessun pilota è stato in grado di avvicinarsi abbastanza da poter sparare un colpo agli oggetti che volano a una velocità di mille miglia all'ora ma cosa sono esattamente questi oggetti sopra i cieli di Washington DC ci sono velivoli nei cieli più veloci dei nostri aerei ed anche più agili li abbiamo rilevati con i radar abbiamo mandato i nostri piloti per cercare di intercettarli eppure ancora ci sfuggono che cosa succede nei nostri cieli questi UFO sono navicelle aliene che vengono dallo spazio o c'è un'altra spiegazione con decine di testimoni e rilevamenti radar le forze aeree devono calmare una popolazione spaventata il 29 luglio del 1952 il generale John Sanford direttore dei servizi segreti dell'aeronautica militare tiene una conferenza stampa siamo riusciti a scoprire che spesso erano scherzi altre volte velivoli amici fenomeni meteorologici o elettrici o semplici aberrazioni luminose una delle possibili spiegazioni fornite dall'aeronautica militare è che il fenomeno sia stato causato da un'inversione termica ma molti nella comunità scientifica e tra gli esperti di UFO non credono in questa spiegazione c'è ancora una parte di questi avvistamenti che stiamo cercando di analizzare dopo il discorso di Sanford il maggiore Donald Keough prende la parola e quello che dice è scioccante con tutto il dovuto rispetto all'aeronautica militare sono convinto che si dimostrerà che alcuni vengono dallo spazio di cos'era conoscenza il governo e per quanto ancora volevano tenerlo nascosto al pubblico dossier segreto il giurì Robertson gennaio 1953 dopo l'ondata di avvistamenti UFO senza precedenti la CIA convoca il giurì Robertson il giurì Robertson era composto da scienziati esperti di radar fisici nucleari persone riunite dalla CIA per cercare di capire come affrontare la questione degli UFO il capo del project Blue Book il capitano Ruppel presenta i casi con le prove più concrete il filmato di Trementon e quello di Mariana ma Ruppel comprende presto che il gruppo è già arrivato alle proprie conclusioni l'obiettivo del giurì Robertson era stato stabilito ancora prima che mettessero piede nella stanza per stabilire che cosa mostravano le prove dopo aver sentito solo 12 ore di testimonianza in tre giorni le conclusioni finali del giurì Robertson sono che gli UFO non costituiscono una minaccia per la sicurezza nazionale e che la maggior parte degli avvistamenti può essere spiegata con fenomeni naturali molti esperti oggi guardano quei documenti e dicono che non hanno svolto il loro lavoro esaminando le prove raccoglievano le testimonianze per analizzarle e le liquidavano una alla volta qui una sonda atmosferica qui gas tossici il pianeta Venere in un altro caso e ignoravano qualsiasi prova gli si presentasse anni dopo uno scienziato del giurì Robertson l'agente della CIA Frederick Durand rivelerà che il giurì non aveva realmente il compito di analizzare le prove ma quello di stabilire un protocollo per sfatare le dichiarazioni di avvistamenti UFO se avevano un caso con una chiara spiegazione convenzionale diffondevano quello e non parlavano assolutamente di quelli inspiegabili l'esistenza del giurì Robertson è la prova schiacciante a supporto del fatto che il Project Blue Book non ha veramente indagato sugli oltre 12.000 casi di UFO ma che ha soltanto cercato di dar loro una spiegazione inaccettabile stiamo per scoprire cosa dice in segreto RuPaul al comando della difesa aerospaziale solo due settimane dopo la chiusura del giurì Robertson l'ondata di avvistamenti del 1952 scuote la nazione e fa nascere dubbi riguardo l'azione dell'esercito statunitense contro minacce sconosciute ma il governo degli Stati Uniti nega l'esistenza del fenomeno non riesco a concepire avendo io lavorato presso il ministero della difesa per 21 anni come si possano liquidare testimonianze credibili senza che prima vengano eseguiti attenti esami scientifici al capitano Edward RuPaul capo del Project Blue Book viene chiesto di informare il comando delle forze aeree all'incontro RuPaul probabilmente rivela che secondo un'analisi statistica su oltre mille avvistamenti solo l'11% può essere identificato con esattezza il rimanente 89% viene classificato come probabilmente identificabile possibilmente identificabile e non identificato non ha importanza cosa siano dobbiamo calmare la popolazione perché la vera minaccia potrebbe essere la società stessa dopo il picco di avvistamenti del 1952 il governo statunitense ancora oggi nega di studiare il fenomeno degli UFO ma alcuni la pensano diversamente io sono convinto che il governo studia ancora gli UFO ma ho il sospetto che lo faccia tramite agenzie esterne o tramite qualche ufficio dell'industria della difesa nascosto bene molto bene agli occhi del pubblico senza un'organizzazione centrale per raccogliere informazioni sugli avvistamenti nessuno sa quanti eventi UFO ci siano ogni anno ci sarà un altro 1952 come potremmo saperlo e il governo allerterà la popolazione continuate a seguirci e scoprirete i più grandi segreti dell'universo campi ciao ciao